ciao benvenuto andiamo a vedere per te se le mie carte hanno un qualcosa in vista per quanto riguarda un po la sfera affettiva questo video non avrà tempi ma avrà valore dal momento in cui tu lo vedrai ok look at the bigger picture quindi qui già la luna ti invita a cercare di guardare all'intera situazione quindi non perderti troppo nei dettagli magari stai guardando un qualcosa in particolare ma qui devi vedere un po la diciamo il problema il punto la situazione nella sua interezza work through your fears lavora sulle sue paure quindi qui c'è senz'altro un qualcosa che sta turbando la vergine andiamo a vedere la cicogna la cicogna la casa la cicogna la casa e il diario beh qui senz'altro c'è un qualcosa che la vergine sta tenendo dentro senz'altro c'è un qualcosa che la vergine sta tenendo dentro e che non si sente ancora pronta vuoi per paura vuoi per la situazione non si sente pronta ad esternare qui c'è senz'altro un passato un passato che ancora pesa nella vita della vergine quindi situazioni passate situazioni passate un qualcosa che ancora non la lascia completamente completamente libera di c'è una vergine molto presa dalle sue cose quindi magari anche molto casalinga in questo periodo non so se se siete sposati se siete singolo ora lo vedremo ma qui mi fanno vedere una vergine troppo regina della casa non so come meglio dire quindi magari in questo momento la vergine preferisce che ne so io leggere un buon libro dedicarsi ad altro per la vergine segno della vergine ok qui fanno vedere il 3 di spade e il cavaliere di coppe qui c'è una vergine ferita qualcuno senz'altro ti ha fatto ti ha fatto del male ti ha ferito ti ha ferita assai qui non è che la vergine non abbia voglia desiderio o ambizione o bisogno d'amore e d'affetto ma io penso che ci sia una vergine vedi il 5 di spade una vergine che è stata in qualche modo ferita a morte e si sia allontanata non voglio dire dall'amore proprio in generale ma almeno da una qualche persona qui c'è una vergine che ha subito una perdita di un qualche tipo qui c'è una vergine che proprio insomma diciamo non non si sente non non si sente riconosciuta non si sente amata valorizzata per quello che andiamo a vedere ma qui vedo molti vergini praticamente come ho detto presi magari dalla dalla propria casa dalla propria famiglia chiusi ecco sostanzialmente chiusi qui ci sono delle paure delle paure da superare per la vera bella quest'imperatrice per la per la vergine bello però imperatrice sole ma è la forza allora qui c'è una vergine senz'altro in in recupero ancora magari tentenna tentenna un pochino un po dubbiosa un po magari fa un passo avanti due indietro come gamberi però diciamo che qui lo scoglio più grande per la vergine è superare le proprie paure ok le proprie paure qui c'è molta ansia c'è una chiusura io credo che qui qualcuno ti abbia colpito ferito così forte poi magari hai pure avuto altre storie dopo è però di dio ma qui c'è dentro qui c'è rimasto dentro un qualche cosa come si dice il corpo del reato il coltello ancora conficcato lì dentro mi chiarite quel 9 di spade per favore che cos'è quel 9 di spade non per nulla anche qui c'è un cuore è disegnato non so se lo vedete se lo vedete bene mia per nulla ma qui non voglio dire per tutti ma qui per alcuni versioni non se ne vuole neanche senti parlare proprio dell'amore di una storia di 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 quindi qui c'è una vergine che sostanzialmente potrebbe essere più alle prese con se stessa che con l'amore diciamo sì c'è molta paura guarda l'asso di denari l'asso di denari e il bagatto qui c'è stata sì è lotto di denari quindi qui c'è stato sicuramente in passato una relazione abbastanza importante una persona che piaceva proprio piaceva assai che però ha ferito profondamente qui sono 5 di spade per la vergine ma qui guarda riassunta due parole io vedo la paura qui c'è la paura si vede da tutte le parti però si va verso il sole andiamo un po a vedere mi dite qualcosa su quell'imperatrice vedi qui c'è una e il diavolo qui c'è un'imperatrice che si è assolutamente chiusa quindi qualcosa di di accaduto per te vergine ha proprio chiuso il tuo cuore ci si dedica alla famiglia ci si dedica alle cose come posso dire quotidiane però ci siamo andiamo a vedere il sole guarda il sole con le stelle e il dieci di coppe vergine qui e volendo c'è anche un bel re di bastoni vergine qui c'è un amore in arrivo lo so che non te ne frega nulla quello che ti pare ma qui c'è qui c'è qui c'è proprio il il sole quindi già ti vedo in ripresa quindi un magari questa paura si sempre lì però magari si comincia a tenerla più da una parte da una parte qui si riaccende la voglia di vivere un desiderio di felicità come dire anche io ho diritto di essere felice accidenti quindi si riapre la voglia il desiderio magari di farsi bella di tornare attraente come un tempo di dedicarsi di più a se stessa capito guarda cavaliere cavaliere di denari due di coppe quindi qui se anche ci fosse o ci fosse stato con queste due carte ce lo togliamo proprio qui vergine qui c'è una persona in arrivo ma io ne vedo due sinceramente ma vediamone una sola una persona in arrivo che avrà sicuramente tutta la pazienza e tutta la determinazione di riaperti di riaperti nel senso aspetta non sto parlando ad un ex di averti come eri o come saresti non so se mi se mi sto spiegando in altre parole qui c'è una persona che avrà tutta l'intenzione tutto il desiderio di tirarti fuori ok da quel guscio in cui ti sei infilata ecco non so se mi spiego meglio o sì ok qui non ci sono dubbi cavaliere di denari due di coppe questa sarà una persona che senz'altro farà di tutto per averti sicuramente molto determinata ad averti perché ti vede una donna per ti vedrà una donna per bene una donna molto passionale quindi riuscirà a vedere oltre diciamo così questo muro di paure di fippe mentali in cui ti sei chiusa non escludo sia una persona che già conosci cos'è quel cavaliere di denari che cos'è quel cavallo di denari guarda no allora qui è il re di coppe qui c'è quando meno te l'aspetti cara vergine qui c'è un amore per te qui sono chiare le carte sono sono chiarissime qui fanno vedere una una persona vergine cioè te addolorata senz'altro ferita chiusa rinchiusa diciamo sì in questo in questo guscio chiamiamolo chiamiamolo così dovuto da questo grande o più di uno è grande grande dolore ma qui c'è una persona o più di una naturalmente che riuscirà diciamo così ad entrare ok e a spalancare questo 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 fortone mi date un messaggio per la vergine mi date un messaggio per il segno della vergine il re di spade il re di spade allora qui abbiamo visto sia i segni d'aria sia i segni di fuoco con cui potresti avere ma non ti fissare solo su quelli però potremmo parlare di una bilancia di un gemelli o un acquario o un ariete leone o il sagittario ok ma ripeto non ti basare sui segni perché magari non conoscendo tutto il tema natale della persona magari ammarte in ariete ma non lo sai e dici no non è lui o lei va bene mi raccomando io qui vergine ti vedo sicuramente in ripresa sicuramente devo tornare a farti bella bella vergine è bello o bella ok io parlo alla vergine sia uomo che donna qui ti vedo proprio qui torna il sole proprio il sole all'improvviso cara vergine qui c'è proprio un come minimo un'avventura come minimo qual è il risultato per la vergine vediamo un poco lo sarà il nocciolo per il segno della regine no no vergine il 3 di coppe parlando d'amore il 2 che mi è uscito qua e il 3 di coppe come risultato come nocciolo più belle non mi potevano uscire vergine quindi qui assolutamente 3 di coppe qual è il consiglio che volete dare alla vergine ecco il papa 3 di coppe papa che poi è uscita anche qui un altro 3 di coppe allora vergine qui lascia andare lascia andare fai pace con il cuore con l'amore devi avere fede e fiducia nel futuro nell'amore negli affetti devi riuscire a ritrovare la fede la fiducia diciamo così che questo possa accadere qui c'è una realizzazione affettiva strepitosa per te vergine ma è anche una realizzazione che tu proprio non ti aspetti proprio proprio perché parti insomma diciamo così da sottoterra ecco non so come meglio come meglio dire qui viene spazzato via tutto il dispiacere la solitudine l'angoscia la paura e si va verso questa realizzazione affettiva anche perché sarà una persona che saprà insistere saprà a tirare fuori il bello da te proprio quando meno se l'aspetti qui proprio ti arriva ti arriva proprio lavora sulle tue paure sicuramente vedi lavora sulle tue paure si dicono le carte la giustizia guarda arriva questa persona e sarà pure la persona la persona giusta diciamo così per te o comunque riuscirà e ti donerà senz'altro quell'equilibrio di cui tanto hai bisogno io qui si ti vedo andare verso un momento veramente 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 felice vergine io se lo auguro tutto ok questo è il messaggio che le mie carte hanno inteso dare a te cara vergine quindi fammi sapere giù nei commenti come ti ritrovi è quello che sicuramente vivrai noi ci vediamo naturalmente sempre qua al prossimo video ciao vergine eccoci qua vi lascio ai miei vi no eccoci qua